L'ultimo episodio te lo parlavo sempre di te ma che è spinto? ma assaggi la roba si fanno che stai facendo? non lo fai male 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 ma la fatica è niente per te il lavoro è un sogno ma c'è te la fatica è da fargli te anche io ah non lo fai male non lo fai male non lo fai male non lo fai male questo è uno stoccaggio io ho avuto un'occasione e ho comprato 31 vestiti uno per ogni giorno stessa misura e stessa cosa buongiorno questo è lo fai male 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 ma chi ha fatto questa buona metterà luce delle maschere mi sa proprio che gli spalma faccio e si ognati che lo faccio sotto il barcone che non mi salutai in una macchina stiamo tutti e due uè ti ricordi mamma come non mi ricordo stai parlando di LAPA nooo sei venendo a LAPA nooo si chiama LAPA LAPA che è la macchina mi hai pianto LAPA stai nella quarantina nooo 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 però santo Dio benedetto mi stai mangiando un po' chi mi ciò si scroge dentro uno e te 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 eh l'Evangelio è un po' che ci ho fatto figlio mio perché ci piace molto se ci piace molto se ci piace molto ci ho fatto lì tu vuoi ad alleggerire l'ombrezzo figlio mio scusa capito ma stu cavallo quanta gozzata stu cavallo stu cavallo ma non hai vincito ma non hai vincito e siamo fortunati se oggi non ritirano ma non lo vanno è gozzatrice adesso schicke